La chiusura allo Spirito Santo è non soltanto mancanza di libertà, ma anche peccato. Ci sono tanti modi di chiudersi allo Spirito Santo, nell'egoismo del proprio vantaggio, nel legalismo ricido, come l'atteggiamento dei dottori della legge che Gesù chiama ipocriti, nella mancanza di memoria per ciò che Gesù ha insegnato, nel vivere la vita cristiana non come servizio, ma come interesse personale e così via. Invece, il mondo ha bisogno del coraggio, della speranza, della fede e della perseveranza dei discepoli di Cristo. Il mondo ha bisogno dei frutti, dei doni dello Spirito Santo. Come elenca Paolo nella lettura Amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Il dono dello Spirito Santo è stato elargito in abbondanza alla Chiesa e a ciascuno di noi, perché possiamo vivere con fede genuina e carità operosa, perché possiamo diffondere i semi della riconciliazione e della pace. Grazie. Grazie.